Se ti rende insicura, se ti denigra, se ti umilia, se ti fa male fisico, se pretende amore o sesso quando tu non vuoi, se la sua gelosia e le sue molestie sono assillanti, se ti minaccia, se ti controlla e ti isola, se limita la tua dipendenza economica, se ti spaventa, se il telefono di continuo per insultarti, se minimizza la sua violenza, se ti chiede l'ultimo appuntamento. Questo non è amore. 1522, non sei solo, esci dal silenzio.